riaccomi ancora con voi perché ho un ultimo prodotto di cui parlarvi allora questo prodotto era stato lanciato l'anno scorso però purtroppo tempo tre giorni abbiamo dovuto sospendere la vendita perché aveva avuto un grandissimo successo ma per fortuna è tornato io lo trovo spendo e soprattutto molto molto utile anche in questo momento sto parlando del nostro bellissimo dispenser guardate che meraviglia è stupendo allora come vedete ha proprio un rubinetto perché per versare le nostre bevande alla capacità di tre litri ci sta tranquillamente nel frigorifero per il trasporto c'è questo manico che come vedete è agganciato per sganciare non dovete fare altro che abbassarlo e lui esce dalle guide il coperchio come vedete a queste due linguette molto pratiche per poterlo aprire e ovviamente andare a riempire e poi all'interno vedete che c'è l'ingranaggio ma tranquille perché insieme troverete anche le istruzioni per poterlo montare ma se avete bisogno io ci sono ecco qua voi mettete dentro acqua naturale acqua frizzante acqua aromatizzata tè succo birra vino quello che volete e dopo di che non dovete fare altro che girare il rubinetto in questo modo e l'acqua fuoriesce da sotto è un prodotto veramente innovativo è comodo adesso che si va in vacanza perché al camper all'urlotte casa al mare casa in montagna ma anche solo per il viaggio stesso perché comunque lui una volta che è chiuso è erometico se durante il viaggio i bimbi hanno sete non dovete fare altro che poggiare sotto un bicchiere aprire il rubinetto e versarlo potete lavarlo in lavastoviglie però all'interno del rubinetto ci sono due piccole guarnizioni in silicone e voi sapete cosa vi dico sempre sul silicone quindi o lo smontate completamente anche perché è una maggiore pulizia una perfetta pulizia ma in lavastoviglie ecco attenzione perché ci sono queste guarnizioni è in promozione in teoria tutto il mese ma in pratica sapete che potrebbe andare ruba e quindi tutte le signore che l'anno scorso non hanno potuto prenderlo magari ci pensano quest'anno ed è in promozione a 35 euro ricordo che ha la capacità di 3 litri potete anche metterci che ne so l'acqua col ghiaccio piuttosto che la birra il mojito la sangria ovviamente però sapete che magari i pezzettini potrebbero andare a istruire però ecco facciamo le cose sane acqua e via così è veramente carino io ve lo consiglio perché l'anno scorso l'ho tenuto in frigorifero l'anno scorso era di un altro colore e questo io lo trovo veramente bello i colori questo mese sono veramente spettacolari per cui vi ricordo ancora il nostro dispenser da 3 litri è a 35 euro non fatevelo scappare prenotate subito il vostro perché potrebbe esserci il rischio che rimanete senza un'altra volta ciao 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 ciao